La decisione presa da Maurizio De Giovanni di annullare la presentazione del suo libro a Salerno a seguito della lite social avuta con i tifosi Granata per i Cori Antinapoli non è stata condivisa né dagli intellettuali né dagli amministratori salernitani. L'incontro infatti era stato organizzato dalla provincia di Salerno, che ancora oggi ha invitato l'autore a ripensarci e a partecipare all'evento del 21 aprile. Queste iniziative credo che devono prescindere da quelle che possono essere le tifoserie, che molte volte logicamente vanno oltre il consentito. Dobbiamo cercare di evitare, di sottolineare quelle che possono essere delle iniziative che vanno condannate, cercando soprattutto per chi fa cultura, di favorire il dialogo. Palazzo Sant'Agostino per il momento non ha ricevuto alcuna comunicazione ufficiale da parte dello scrittore, che in un'intervista rilasciata a 696 TV aveva evidenziato anche la mancata presa di posizione da parte delle istituzioni, un'accusa non condivisa dalla provincia, che avrebbe preferito un confronto preventivo. Siamo pronti a condannare quelli che sono stati atti di offesa personale, ma anche verso la città capoluogo di regione, che è Napoli, ma anche le offese ricevute nei confronti della città di Salerno. Ma queste sono atti che poi possono restare nelle tifoserie sportive. A noi interessava svolgere un momento culturale importante. Sarebbe stato opportuno un confronto proprio ideotico prima di assumere tale decisione. Grazie a tutti.